Lo incitano in questo modo Intanto con le Storm Intanto è partita la partita Siamo alla seconda volta che lo dici La terza vinci un premio Una bambolina, il mongolino d'oro La partita è iniziata In basso a destra avremo Kjard del clan Ira con la X finale Solo perché la gente cattiva ha rubato Un nome del clan Kjard, che tu sai comunque cosa significa Ira Vero Urukan? Se non mi hanno confermato Ma penso sì, Italian Republic Army Mentre dall'altra parte abbiamo Big Mom Del team Nessuno, perché a OS mi dicono Che è stato aggiunto così a caso Giocante Terran Rosso in questo caso E giocano su Antiga Shepiat, versione VCS Perché non ho trovato La versione ladder, quindi Ho messo quella VCS Che è un po' uguale, l'unica cosa che cambia è che al posto Del deposito ci sono delle rocce distruggibili Intanto il nostro Kjard deve alzarsi tra sei ore Per andare al lavoro, a scuola Quello che vuole Oppure soltanto per portare il cane a spasso Perché altrimenti gli allaga la casa Ma a noi interessa poco Interessa soltanto ora Quello che farà in questo game Nel quale affronta il finalista Della Lega Platino Per quanto riguarda il torneo Potrebbe essere appunto la finalissima In questo caso dipende da chi vince Se vincesse Chard Ci porterebbe a casa la coppia di Medal of Honor Offerta da Western Digital Vediamo come andrà questa partita Entrambi vanno a scoutare nella stessa posizione Contemporaneamente Ma entrambi scoutano in una posizione sbagliata Complimenti Vedremo un po' Comunque sono un po' sfortunati Io forse non avrei scelto quella come prima posizione A scoutare Ma ovviamente io non sono Platino Sono un misero oro Quindi mi accontento un po' Di quello che riesco a fare in game Con le mie Intanto il primo gas arriva pure Arriva pure Il primo gas da parte di Chard Che sta facendo una build molto standard Come il suo versario Che probabilmente andrà di 1 Rax FE Dato che se fosse andato di 2 Rax Avrebbe già fatto una seconda Rax Quindi Non sta facendo ora L'upgrade al centro di comando Quindi probabilmente come dici te Farà successivamente Comando orbitale Il comando orbitale Sì Non il centro di comando Il centro di comando Upgrade al comando orbitale E ora arriva Sta bancando minerali Arriverà brevissimo La Rax che viene Sì dal centro di comando Che viene scautato Dalla Probe Vediamo la micro La micro di Big Mom Che alla fine decide Di ritirare Marine Per evitare di uccidere Quella povera Probe Perché aveva una famiglia Decide quindi Lasciarla vivere Mentre il centro cibernetico È quasi terminato Da parte di Chard Scout Da parte di entrambi giocatori Chard sta per forza Andando a prendersi La sua base di espansione Sì infatti Manda la sua prova A prendere la base di espansione Mentre Zlota insegue L'SCV di Scout Che sta facendo Un giro lungo Per evitare di essere ucciso E se ne tornerà Probabilmente a casa A meno che questa Probe Non lo colpisca malamente No L'SCV si blocca L'SCV è rimasto un attimo A pensare sul suo futuro E non ha avuto più Un futuro da raccontare A nessuno dei suoi bambini L'SCV Quindi È morto lì sul posto Però ha scautato Quello che doveva scautare Cioè Il Nexus Da parte del suo avversario Forse Il Bunker è un po' eccessivo Per Big Mom Non credo che In questo momento Con un Nexus In produzione E un gate Adattivo Xhar Possa sperare un attacco Ma in ogni caso Meglio sempre difendersi Per ora Big Mom Sta andando di 3 racks La partita sembra Abbastanza simile A quella precedente Vedremo se anche In questo caso Xhar Build abbastanza standard Da parte di entrambi i giocatori C'è pure l'officina bellica Come aveva messo prima Tra l'altro Sempre dietro a Mineral Line Big Mom Non si Non si smentisce Fa sempre la stessa cosa Mi ricorda un po' Il nostro amico Mad Fusion Che è andato di 8 pool Durante tutto il torneo Dell'E-Blue Cup Ma non importa Stiamo divagando Intanto i due gas Sono terminati Tra poco vedremo Teclab e Seapack Però c'è un mulo Che non sta lavorando Una grossa perdita economica Ecco Ora sta lavorando Ci ha sentito in stream Big Mom Stanno facendo entrambi Stream cheat Vabbè Allora sono pari Quindi O si annullano La partita per tutte e due Quindi Al tavolino vince Nessuno Vengo io Vinte Dante Oieto Oppure E Pippo Promosso direttamente in platino Oppure niente Ma comunque Divaghiamo Come sempre Vediamo che È a 38 di Psi 39 In questo momento Contro 30 di Big Mom Leggero vantaggio Per Chal Che essendo un protos Questo vuol dire Un grande vantaggio Infatti Se non erro La unit composition Eh Sta facendo forse La stessa build Infatti 3 gate Non sembra Voler raggiungere Una fabbrica robotica Quindi vedremo Probabilmente tra poco Un concilio del crepuscolo E anche Gli ht L'archivio Dei templari Mentre Big Mom Continua con la build Che aveva fatto La scorsa volta So che ora Sta producendo Due marauder alla volta Piuttosto che produrre Mono marine Esatto E questo che volevo Farti vedere Anch'io Che sta promesso Due Moduli tecnologici Quindi Moduli tecnologici Quindi sta andando Molto di marauder E soltanto un reattore Quindi molto probabilmente Punterà ad avere Una massa bio Composta anche con i marauder Che sono decisamente Imba Quindi Non vedo perché Non utilizzarli Gli mancano soltanto Delle medivac Per dare supporto Alla sua armata bio Intanto ci sono due Probe Ci sono due prove Che guardano male Che guardano il nexus Che Si stanno Ora solo tre le prove A guardare il nexus Se ne sta aggiungendo Arriva una quarta prove Vedremo quante ne riuscirà Ad accumulare XR Prima di accorgersi Che sta Ecco Ci ha sentito In streaming C'ha sentito In streaming Come al solito Intanto arrivano Tre gate aggiuntivi Come abbiamo visto Nei game di prima Solo che manca il concilio Perché Pusco Stavolta E da parte di Big Mom Vediamo comunque Marine Marauder Tra poco vedremo anche Medivac Perché lo star Porta in produzione Colte Club Per la fabbrica E si Penso che forse Si sente abbastanza sicuro C'è un prox Pion da parte di Kshard Prox Non scoutato Ma dall'altra parte Si sente sicuro Anche abbastanza Sicuro Big Mom Che si avvicina Torex e Naga Con tre Marauder E un buon quantitario Di Marine Intanto l'esercito Di Kshard Ripiega Verso la sua Natural Si preparare A difendersi Con i force Potrebbe anche Vincere questo scontro Facendo dei buoni force Intrappolando Mezzo esercito Da una parte Della rampa Potrebbe anche Portarsi a casa Questa partita Perché comunque L'esercito Di Big Mom È quasi tutto questo Infatti Si prende tre Marauder E li elimina Subitissimamente Bella giocata Da parte di Kshard Si porta in vantaggio Tra l'altro 79 di Psy Contro 67 di Big Mom E a questo punto Warpati altri quattro Persecutori Big Mom Può andare All'attacco Tranquillo Di una Forza d'attacco Decisamente superiore Kshard Dall'altro Scusate Big Mom Dall'altro suo Mette un Marine Sacrificare Torex e Naga E ripiega Ma c'è già Il proxy Pylon qui Che aspetta Nel contempo Big Mom Si sta espandendo Nuovamente Con una E sta costruendo Anche in questo punto Il suo centro di comando Ma vengono warpati Altri quattro Persecutori E non c'è più niente da fare Viene annullato Il centro di comando Altro proxy Pylon Ma ormai L'esercito Il bunker Appena stato È stato Appena stato Riciclato Il bunker Quindi Non so quanto sia stato utile Vediamo cosa succederà ora Forcefield Bloccano Tutte L'esercito Da questa parte Della rampa E Credo che questi Stalker Possano Bella giocata Da parte di Big Mom Che riesce a recuperare Tutte Riesce a recuperare Alcune delle sue unità Però una media Viene distrutta Mentre Porta a casa Le unità Che erano Rimaste Dalla parte Sbagliata Dei forcefield Intanto Kjard Focussa Giustamente I lavoratori Del giocatore Terran Uccide Tutti i lavoratori Che erano presenti Sulla espansione Mentre Marauder E Marine Cercono di fare Altri danni Ma Vengono bloccati Alcuni Vengono bloccati Dai forcefield E non riescono A fermare Il Protos Dal distruggere Questa espansione Messa Da Big Mom Intanto Il supply Parla a Protos Mentre Il Protos Comincia a Focussare Uno dei supply Che fa Muro Un altro Marauder Viene ucciso Sono molto precioso Di Marauder In questo caso Perché ci sono Tanti stalker Pullo Di SCV Vengono pullati Gli SCV Però Big Mom Non può fare Più di tanto Perché ci sono anche Gli ziloti A tankare il danno Che potrebbero fare Gli SCV Credo che questo sia Un GG Da parte di Big Mom Perché non può fare Più di tanto Dato che anche L'ultimo Marauder È morto E contro questi stalker C'è poco Che si possa fare GGV E Fijard Questa Praticamente Giard vince Per la felicità Dei suoi Ragazzi I ragazzi Del suo stesso team Si porta a casa Pure la coppia Di Medal of Honor Messa in paglio Da Western Digital Peccato che Peccato che Non